La relazione del principe Ferri e Meghan Markle con il principe William e la principessa Kate, è precipitata in seguito alle accuse mosse dai Sussex contro la famiglia reale. Il principe Ferri e Meghan Markle, sono stati esortati da un esperto a fare due cose che li vedrebbero offrire un sottile ramoscello d'ulivo al principe William, e alla principessa Kate. La principessa del Galles è stata al centro di una discussione sul fotoritocco dallo scorso fine settimana, e da allora si è scusata pubblicamente per l'incidente. Il capo delle pubbliche relazioni Jack Izard ritiene che il fiasco che circonda la principessa Kate offra ora ai Sussex un'opportunità di pubbliche relazioni. Il CEO di Rizome Media ha dichiarato al Sun. Una parola di sostegno qui. Un gentile cenno verso l'importanza della privacy di Kate Laquesta è un'opportunità per offrire un sottile ramoscello d'ulivo ai Cambridge. E fatto bene, può essere totalmente in sintonia con uno dei temi preferiti dei Sussex. Un appello ai teorici della cospirazione e ai guerrieri della tastiera a licenziarsi. Un appello ai teorici della cospirazione. Un appello ai teorici della cospirazione, Grazie a tutti. Grazie a tutti.